amiche e amici bentornati in questo nuovo video allora volete sapere le mie peripezie ovviamente continue con il microfono anzi microfoni volevo provare finalmente a riutilizzare il microfono che non so se vi ricordate quello piccolino che mi si era scaricato purtroppo nel mezzo di un video l'ho portato qua volevo riascoltare l'audio onde evitare di fare orrori come mi era capitato appunto l'altra volta ma oibo ovviamente mi sono dimenticata nella mia altra casa un cazzillo dell'asd e quindi ho detto non rischiamo che carino c'è un vicino c'è un signore nel palazzo di fronte che no ma che carino che sta tipo mangiando della frutta sul terrazzo tenerissimo stiamo lontane dal male dal peccato e utilizziamo questo qua il microfono come lo chiamo io da podcaster sembriamo ancora più professional no ragazzi scusate sono troppo distratta dal signore dal golden retriever il golden retriever al secondo piano il signore al sesto io sono al terzo allora ho deciso di fare questo video perché comunque si tratta di una mia fobia che non so se vi ricordate ma la mia fobia più grande è quella del vomito chiamata emetofobia che ho scoperto grazie ai social che fortunatamente non sono l'unica a soffrirne pensavo fossi l'unica al mondo invece ho scoperto che ci sono tantissime ragazze che sono terrorizzate dalla nausea terrorizzate dal vomito allora facciamo un paio di passi indietro quando ero bella e giovane quando avevo ancora il 2 davanti e non il 3 tutto partì nel 2017 quando purtroppo una notte quando ancora se vi ricorderete abitavo in quegli anni a new york non so se fosse stata una congestione non so se fosse stato food poisoning non ne ho idea fatto sta che insomma una sera esco con mia mamma appunto a new york andiamo in questo ristorante italiano che tra l'altro risaputo famosissimo per il buon cibo torno a casa ragazzi alle due di notte inizia a salire una nausea tremenda vabbè immaginatevi com'è finita quella è stata la notte più brutta della mia vita cioè io mi ricordo che avevo vomitato dalle tre di notte fino alle quattro di pomeriggio è stata una cosa devastante cioè io mi ricordo che in quel momento mentre vomitavo dicevo dio ti prego io piuttosto preferisco morire e continuavo a dire in inglese take me with you take me with you talmente è stata una roba greve poi dopo più o meno mi riprendo e purtroppo due settimane dopo mi ricade una cosa molto simile ovvero io faccio il maledetto salmone al forno che per quanto il salmone mi piaccia ma per me è veleno così come anche per mia mamma perché io non so non so perché quando io mangio il salmone affumicato salmone crudo sto bene non appena mangio il salmone cotto ragazzi non dico ad andare all'ospedale ma vomito l'anima non me lo ricordavo non lo mangiavo da anni una notte appunto di nuovo mi sveglio conati su conati non avevo vomitato però la cosa greve è che comunque è stata una roba abbastanza avvicinata perché appunto come ho detto prima mi era successo una cosa appunto molto simile due settimane prima vabbè niente riesco comunque a salire sull'aereo torno a milano dopodiché ragazzi inizia il calvario questa cazzo di luce continua a cambiare mi sta dando fastidio perché o sono estremamente nera o sono estremamente bianca ad un certo punto per un anno da quell'episodio lì io non riesco a mangiare altro che cibo iper mega dietetico una sera mi ricordo che la mia tata mi aveva cucinato il risotto con i gamberetti dieci minuti dopo ragazzi ero sulla tavola del gabinetto lì lì che stavo per vomitare ma non avevo vomitato io dicevo ma com'è possibile voglio dire il risotto con i gamberetti poi dopo dieci minuti dicevo boh stessa cosa quando una volta avevo mangiato il couscous che mi avevano aggiunto una noce di burro mamma mia stavo malissimo anche lì ovvero una nausea devastante e inizio a notarlo con praticamente qualsiasi cibo io ingerissi per esempio io mi dico mamma mia anche lì non me lo dimenticherò mai un kinder pinguì per me era equivalente allo stare male per minimo cinque ore cioè cinque ore di nausea ragazzi cinque ore così come anche mezzo macaron un biscotto cioè tutta questa roba grassa per me era letteralmente veleno però fortunatamente non vomitavo mai io potevo ingerire solamente ullo bollito riso bollito patate bollite forse anche pesce bollito ho dei buchi per quanto riguarda quegli anni non so se perché comunque è passato tanto tempo da allora o se era una sorta di trauma mia mamma si spaventa io idem con patate e mi inizia a far fare mille miliardi di esami per capire ovviamente cosa cacchio mi stesse capitando quindi valanghe di esami del sangue io ve lo giuro per un anno io facevo esami del sangue una volta al mese vai dall'allergologo fai gli esami anche per capire se potessi essere allergica a qualche alimento qualche proteina dell'alimento niente robe contenenti nel cioccolato ragazzi c'è una qualsiasi cosa possibile ovviamente sana come un pesce allora dagliele a portarmi dai gastroenterologi dai primari a milano dal professore a nizza poi ai tempi non so se vi ricordate io abitavo anche in lettonia a riga addirittura mia mamma mi aveva portato da una specialista la ragazzi non si truciva a trovare niente inizialmente forse mi avevano diagnosticata con la gastroenterite ma comunque era un po così campata in aria quindi diciamo che non erano del tutto sicuri perché quindi mi avevano dato da prendere prima di ogni pasto chi ne soffre lo saprà il gastroprotettore e non mangiare cibi tipo il pomodoro lcb acidi nessuno riusciva a darci una risposta fatto sta che in quel momento questi ricordi molto vattati cioè comunque si è passato tempo ma non troppissimo cioè comunque 2017 2024 non è che stiamo parlando dei miei ricordi quando avevo 3 4 anni cosa succede quindi inizio piano piano a riprendermi inizio a riuscire ad ingerire un biscotto che non mi provocasse la nausea queste cose meno healthy riesco a piano piano ad iniziarle a ringerire inizio però a perdere peso che non aveva assolutamente senso che non so se voi cioè questo però se lo devono ricordare veramente gli og del 2017 come quella gente che mi seguiva i tempi sarà disiscritta al mio canale già io di mio sono magra però lì ero veramente diventata parecchio parecchio magra ma ai miei occhi mi sembrava che fossi perfetta perfetta forma mia mamma impazzisce mi porta per questa professionista in bo in un ospedale in lettonia mi visita e ragazzi è stata una visita che mi ha fatto posso dire incazzare arrabbiare parecchio perché anche lei non riusciva a trovare ovviamente un motivo a questo mio dimagrimento si dice così quando io le dicevo guarda che io mangio io bruciavo molto velocemente il cibo io ero arrivato a pesare 40 41 kg quindi lì per arrivare ai 39 lei insomma si è azzerbata a dire ero in uno stato anoressizzante a me questa parola mia o ragazze ad oggi mia mia traumatizzata ma sconvolta perché io mai avrei pensato di poter passare dalla parte di una ragazza malata mi aveva prescritto questi shake proteici da prendere io però mi ero rifiutata perché avevo il terrore di gonfiarmi come una palla perché sapevo che questi tipi di prodotti si dessero alle ragazze che soffrono di anoressia allora lei ha detto a mia mamma che era solo quindi un problema di testa cioè nel senso che lo facevo apposta a non mangiare questo era anche un periodo in cui io avevo scoperto da circa un anno il mondo della spiritualità e avevo iniziato a fare tanto lavoro introspettivo ho ricordato che però per me non era un bel momento io stavo attraversando un momento triste molto stressante ovviamente si tratta sempre del mio ex ragazzo che stava a new york e ho detto ma cacchio ma non è che a questo punto veramente più che una cosa fisica un malessere fisico in realtà è tutto collegato dalla mia mente c'è una cosa magari psicosomatica cioè che magari in realtà sono sanissima ma sono talmente stressata che il mio corpo adesso oh sì ragazzi c'è una gru che secondo me adesso mi tira giù il palazzo di fronte c'è sta catena che sta facendo così no ragazzi c'è già sono ansiata ok piccolo intermezzo fatto è finito e continuiamo quindi io sono quasi sicura che fosse dovuto appunto a questo nell'agosto del 2018 e del 2019 io torno a new york sempre comunque molto magra conosco questo madonna mia il destino avevo fatto anche un video riguardo conosco questo ragazzo che era un mio fan a new york me ne innamoro ritrovo la serenità quando torno poi di nuovo a milano io ho ripreso peso in due settimane tutto il peso che io avevo perso l'ho ripreso in due settimane mangiando le stesse cose che io mangiavo nei mesi precedenti che però mi facevano dimagrire io cioè ci potete credere o meno è una roba inspiegabile che come vi ho detto ad oggi nessun medico si riesce a spiegare e quando il medico ti dice non so cosa dirti vuol dire che è veramente greve come cosa mi sembra molto bizzarro che le analisi che io ho fatto per come vi ho detto un anno intero si fossero rivelate tutte perfette cioè io secondo le analisi ragazzi ero in salute perfetta questa era il mio story time fatemi sapere nei commenti se vi è successa mai una roba del genere vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video ci vediamo settimana prossima bye